Domani ultimo atto del lunghissimo campionato marchiato con successo dal campo basso. Le statistiche la dicono lunga sui meriti della squadra di Farina che domani si appresta a scendere in campo per la 49esima volta in stagione. Finora su 48 gare giocate i Rosso Blu hanno portato a casa 44 vittorie e 4 pareggi equamente ripartiti tra campionato e Coppa Italia. In campionato solo Fornelli e Monti Dauni sono stati capaci di bloccare sul pari il lupo. Nell'altra competizione i lupi hanno maturato due utili pareggi contro Avezzano, X valido per passare ai quarti di Coppa, e Catania, nulla di fatto utile per accedere alla finalissima di Scandicci. La trentesima di campionato vedrà i lupi giocare in funzione del bomber Lazzarini. La squadra tutta vuole che Riccardo sia il re della classifica, cannonieri Riccitiello a 24 gol, tallona Lazzarini primo in classifica. Sarà una bella lotta tra i due, considerato che anche il sesto campano impegnato contro la Leaf giocherà in funzione del proprio bomber. Campo basso Rocca Lavindola costituirà il commiato dai tifosi Rosso Blu, che certamente verranno numerosi a Selva Piana per salutare la fine della stagione. Non solo, l'ultima di campionato farà anche da prologo alla festa Rosso Blu, che si terà in piazza Municipio a partire dalle ore 18. I tifosi verranno allietati da buona musica e dai mancabili parentesi gastronomiche, classici momenti che ricorrono in circostanze di festa come queste. La festa Rosso Blu a coronamento della stagione vincente sarà anche un'occasione per ridare pubblicità e nuova linfa al comitato. Noi siamo il campo basso, il cui conto corrente continua ad essere attivo. Alcuni membri del comitato allestiranno in piazza una postazione per chi volesse sottoscrivere altre quote del comitato stesso, ovvero per chi ancora non lo avesse fatto. Certo è che la stagione appena conclusa e fuoriera di tante soddisfazioni deve rappresentare un punto di partenza per il futuro nella categoria superiore. Da lunedì 5 il pensiero dovrà essere rivolto con decisione all'allargamento societario, fattore su cui, ne siamo certi, i dirigenti attuali si stanno già spendendo da tempo. Il primo passo, come già annunciato, dovrà essere la conversione della società attuale in una SRL. Bisognerà altresì cercare di intervenire con oculatezza sull'organico attuale che, ad avviso del tecnico Farina, dovrebbe essere riconfermato nella sua interezza. Dichiarazione che l'allenatore si è lasciato sfuggire nella cena sociale tenutasi qualche giorno fa al ristorante Coriolis. Insomma, da lavorare ce n'è anche molto a partire da un minuto dopo la conclusione della festa rosso-blu. La cosa positiva avvenuta nella stagione che sta andando in archivio è un rinato entusiasmo, un rapporto nuovo e più saldo instauratosi tra tifuserie e società grazie ai lusinghieri risultati conseguiti. Questo fattore può essere indiscutibilmente una buona base di partenza per lavorare alla prossima stagione.